Anche nel rio Frizzone di Porcari è presente l'inquinamento da Pifas, le sostanze per fluoroalchiliche note come inquinanti eterni perché di difficile scomposizione e pericolose per la salute dell'uomo. Lo rivela uno studio effettuato da Greenpeace nel gennaio di quest'anno sui corsi d'acqua che attraversano alcuni distretti produttivi della Toscana. L'inquinamento da Pifas era già stato accertato in distretti come quello conciario, tessile e florovivaistico. A questi, adesso, si aggiungono anche quelli del cuoio e della carta. Quest'ultimo in particolare, si legge nel rapporto di Greenpeace, è noto per utilizzare i Pifas in alcune fasi produttive. Greenpeace ha effettuato i rilievi del rio Frizzone a monte e a valle del depuratore Acquapur nel comune di Porcari. Se a monte la quantità rilevata di Pifas non è elevata, altrettanto non si può dire a valle dove risulta di 107 nanogrammi al litro, circa nove volte superiore rispetto al campione prelevato nello stesso fiume a monte dello scarico del depuratore. A fronte di questo risultato, Greenpeace chiede alla regione di condurre approfondite indagini nel distretto cartario per individuare tutte le fonti inquinanti e bloccarle. Più in generale, sui distretti produttivi toscani esaminati, gli ambientalisti chiedono alla regione di farsi promotrice di un piano di riconversione industriale dei processi produttivi responsabili dell'immissione di Pifas nell'ambiente e di avviare indagini capillari volte a ricercare l'eventuale presenza di Pifas nelle acque potabili.